Oggi nuovo Consiglio Comunale a Mascaluccia per tornare a parlare del regolamento dei Deors, che una settimana fa ha provocato la spaccatura nella maggioranza. In questi giorni, dopo la sfuriata in Camera Caritatis del Sindaco Giovanni Leonardi, i gruppi che sostengono l'amministrazione hanno fatto prove di riavvicinamento, come ha dimostrato la grande serenità del voto sul bilancio, che ha visto la maggioranza fare quadrato davanti agli attacchi di 5 Stelle, intesa Mascaluccia. E resta da capire adesso quanto durerà la liruna di miele con il Partito Democratico.